Il futuro del turismo in Puglia passa dalla diversificazione e dalla sostenibilità. Se ne è parlato a Taranto durante la visita del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in Camera di Commercio. Proprio nel G20 che abbiamo organizzato a Roma con Guida Italiana il 4 maggio, abbiamo condiviso con gli altri paesi la sostenibilità come uno dei punti chiave per il nuovo turismo. Quindi il turismo nuovo si basa sulla sostenibilità e Taranto può essere un esempio proprio emblematico di come mettere questa idea a farla diventare un fatto concreto. Solo nel settore del turismo specifico abbiamo messo quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 8, che però con l'effetto leva diventano molti di più, quasi 3, proprio per la sostenibilità, la riqualificazione delle strutture ricettive di ogni tipo. E quindi già questo è una piccola grande cosa. Trasformare Taranto quindi in un esempio emblematico per tutto il paese che possa dimostrare come sia possibile trasformare una città prevalentemente industriale in una realtà vocazione turistica. La presenza del Ministro è importante perché sarà proprio quello del turismo il campo in cui lavorare bene in sinergia tra chi rappresenta lo Stato e chi rappresenta la regione, il territorio. E credo che col sindaco di Taranto si stia facendo un ottimo lavoro. Le manifestazioni che ci sono appena state legate al mondo dello sport ci fanno pensare che ci potrà essere un turismo sportivo. Prossimo obiettivo per il capoluogo ionico è quello di destagionalizzare il turismo, rafforzando in particolare quello di tipo culturale, oltre che sportivo. Siamo molto contenti soprattutto perché il Ministro ha ben chiaro che la diversificazione produttiva che noi abbiamo nel nostro programma di transizione è assolutamente fondamentale per farci emancipare dal ricatto della grande industria. C'è una consapevolezza rispetto anche alle tematiche ambientali, oltre che d'immagine che vanno perseguite ai più alti livelli e quindi c'è una grande sintonia rispetto al lavoro che si sta programmando. Sono convinto che, come ho detto nei giorni scorsi, abbiamo avuto un grande spartiacco in questo momento in città e dobbiamo procedere in questa direzione.